La regione potrà investire 270 milioni per nuove tecnologie telemedicina, ospedali e case della comunità con i fondi del PNRR. Quasi 2.300 ricci di mare sequestrati dal Corpo Forestale di Vigilanza Ambientale di Alghero nel corso di un controllo all'area marina protetta di Capocaccia e Zolapiana, denunciati due pescatori. Questa mattina al Qualtè la presentazione della quinta edizione di Jazz Alghè, 13 appuntamenti da aprile a novembre. Un saluto a tutti voi ben ritrovati telespettatori di Catalan TV, realizzazione degli ospedali e delle case della comunità, ma anche creazione centrali operative territoriali, strumento indispensabile per il nuovo modello di presa in carico del paziente. Inoltre interventi infrastrutturali e tecnologici per la digitalizzazione e lo sviluppo della telemedicina e per l'amodernamento degli ospedali e dei presidi territoriali dell'isola. Lo avete sentito anche dai nostri titoli e quanto previsto dal programma di investimenti predisposto dalla Regione per la sanità della Sardegna attraverso le risorse del PNRR e del Piano per gli investimenti complementari. Oltre 270 milioni di euro le risorse disponibili, confinanziate dalla Regione per la realizzazione di circa 80 strutture sanitarie e un totale di più di 200 obiettivi da portare a termine entro il 2026. Con questo intervento stiamo gettando solide basi per costruire il futuro della sanità sarda, che vogliamo sia sempre più di alta qualità e competenza. Quello che stiamo realizzando è un modello nuovo, moderno ed efficiente, in grado di indirizzare e accompagnare il cittadino in un percorso attraverso il quale possa sempre trovare le risposte migliori ai suoi bisogni di cura e assistenza, dichiara il Presidente della Regione, Cristian Solinas. Non perderemo questa grande opportunità che ci impegna con tutti i nostri sforzi per investire nel modo migliore queste risorse. Il piano prevede la realizzazione di 50 case della comunità su tutto il territorio, 13 ospedali di comunità, 16 centrali operative e territoriali e oltre 100 interventi per l'amodernamento tecnologico. Due le linee di programma per l'innovazione. La prima, per oltre 47,4 milioni, riguarda la digitalizzazione e l'innovazione dei nuovi ospedali classificati come DEA di primo e secondo livello. Giovanni Paolo II di Olbia, il San Francesco di Nuoro, Nostra Signora di Bonaria, San Gavino Monreale, Sirai a Carbonia, San Martino a Oristano, le cliniche San Pietro a Sassari, il Policlinico Duilio Casula, Monserrato, San Michele, Arnas Brozzu e Santissima Tranità a Cagliari. Fra gli obiettivi indicati, l'implementazione della cartella clinica elettronica ospedaliera e la realizzazione e integrazione dei sistemi di telemedicina. La seconda linea, per un investimento di oltre 49 milioni e mezzo di euro, coinvolge gli ospedali di tutto il territorio e prevede il rinnovo del parco tecnologico dei grandi macchinari, con l'obiettivo di potenziare le strutture con strumenti diagnostici e di cura di ultima generazione. In vista dello stanziamento previsto dal PNRR, abbiamo realizzato un piano per il territorio in cui crediamo con forza, dichiara l'assessore regionale alla sanità, Mario Nieddu, e lo abbiamo condiviso con tutti i portatori di interesse a cui abbiamo chiesto una partecipazione attiva. Un'opportunità importante per il nostro sistema sanitario, sostiene l'assessore, che ci consentirà di consolidare il processo di ammodernamento già avviato. La programmazione è stata definita e declinata nel dettaglio per ogni singolo intervento, per ciascuna ASL e per le aziende ospedaliere dell'isola. Con la realizzazione delle strutture intermedie, puntiamo un modello di presa in carico del paziente su vari livelli. Attraverso il potenziamento della prevenzione, la gestione delle cronicità, è possibile ridurre la pressione sugli ospedali, che oggi, anziché occuparsi solo dei casi acuti, si trovano a dover dare risposte a qualsiasi problema di salute delle persone, finendo inevitabilmente per andare in difficoltà. Per rilanciare il sistema sanitario, la Sardegna però ha il tavolo con le altre regioni, per chiedere al governo ulteriori interventi che possano garantire il funzionamento del nuovo assetto, bene le risorse in campo per le nuove strutture. Ma se vogliamo vincere questa sfida, precisa l'assessore Nieddu, servono ulteriori garanzie, in particolare sulle coperture finanziarie per potenziare gli organici necessari al funzionamento dei nuovi servizi e occorrono nuove regole, come la modifica degli accordi collettivi con i medici di famiglia. Inoltre, conclude, è indispensabile ampliare la capacità di formare nuovi medici, tecnici e personale del comparto sanitario. In tema di sanità, allora, vediamo anche la situazione Covid, con 1989 casi di positività e 4 decessi registrati nell'ultimo bollettino, processati in totale fra molecolari antigenici 11.051 tamponi, con un tasso di positività del 18%. I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 24, 1 in più. Diminuiscono invece i pazienti ricoverati in area medica, che ora sono 323, 7 in meno. Sono invece 29.950 le persone attualmente in isolamento domiciliare. Ed ora i trasporti, perché i due importanti vettori che hanno scelto di volare da e per la Sardegna 12 mesi senza compensazioni, ITA e Volotea, hanno raggiunto l'accordo per la suddivisione delle rote al 50% da e per la Sardegna sugli scali di Cagliari e Olbia, mentre al suo algero opererà solo ITA. E questa notizia, dopo il successo ottenuto sul fronte della continuità territoriale aerea, è la testimonianza dell'appetibilità del mercato sardo. Un segnale importante che ci proietta positivamente verso la stagione estiva. Lo ha detto l'assessore dei trasporti Giorgio Todde, nel corso della cerimonia di festeggiamento a Cagliari, dei dieci anni di attività di Volotea in Italia, evidenziando l'impegno e la collaborazione attivi e fattivi della regione per gestire le criticità e trovare le soluzioni, garantendo sempre la collaborazione massima. Alla presentazione delle nuove rote della compagnia e delle iniziative attivate in occasione del decennale a cui ha partecipato il CEO di Volotea, Carlos Munoz, ha preso parte anche l'assessore del turismo Gianni Chessa. Siamo qui anche per dire che finalmente si riparte il turismo e l'economia della Sardegna in generale hanno bisogno di trasporti efficaci, capaci di garantire qualità, puntualità, nuovi servizi ed economicità. Si riparte tra i due vettori, con tante nuove destinazioni che aiutano il sistema del comparto turistico a tirare un sospiro di sollievo. L'obiettivo di destagionalizzare, grazie ai trasporti, è una sfida che possiamo vincere, ha chiuso l'assessore al turismo. La politica cittadina ora polemiche per l'Assemblea del Parco andata a deserta in seconda convocazione, l'opposizione attacca il centrodestra. L'Assemblea del Parco, convocata per approvare il bilancio di previsione, è andata a deserta anche in seconda convocazione e sia centrosinistra che Cinque Stelle attaccano a muso duro il centrodestra. Dopo la seduta di martedì, in cui dalla destra non si era presentato nessuno, sembrava che, visto il numero legale ridotto in seconda convocazione, e un terzo dei componenti, potesse essere la volta buona. Quella che in consiglio dovrebbe essere la maggioranza di conoci, invece, non è andata oltre gli otto presenti anche alla seconda chiama a fronte dei nove che erano necessari come numero minimo, seduta a deserta e riconvocata fra 15 giorni. Basteranno 15 giorni per ricomporre una maggioranza frantumata, ormai a pezzi, che non riesce neppure ad avere i numeri per approvare il bilancio dell'azienda speciale, si chiedono gli esponenti di Per Alghero, Futuro Comune, PD, Sinistra in Comune e Movimento 5 Stelle, secondo i quali, però, i dispetti continui fra maggioranza e l'Udc, che guida l'Assemblea del Parco, non fanno presagire niente di buono. D'altronde, se perfino l'azienda sanitaria chiude le porte ai consiglieri comunali, come avvenuto per la commissione consigliare convocata da un esponente dell'Udc in ospedale, significa che si è perso il senso della misura e si è ridotto ai minimi termini il ruolo dei rappresentanti del popolo per beghe politiche che niente dovrebbero avere a che fare con il rispetto istituzionale, proseguono i consiglieri di opposizione. Ci chiediamo se la stessa sorte si vuole riservare per ripicche, sciatteria, dilettantismo anche al Parco di Portoconte, che qualcuno vorrebbe affidare una governance esterna alla città di Alghero. Prima di fare altre misere figure, è bene che i consiglieri di maggioranza prendano atto della situazione penosa e trovino una soluzione meno indegna o abbandonino il timone di una nave sempre più alla deriva, concludono centrosinistra e 5 Stelle. Ed ora apriamo una finestra sulla cronaca, perché un cittadino italiano, classe 1950, è stato condannato in via definitiva a 9 anni di reclusione e 39 mila euro di multa per traffico internazionale di sostanze stupefacenti del tipo cocaina, dovendo espiare circa 5 anni di pena residua. Quando è stato emesso l'ordine di cattura per la carcerazione, il condannato si è reso irreperibile nel territorio italiano. Quindi le ricerche sono state ampliate in ambito europeo e l'autorità giudiziaria ha emesso il mandato d'arresto europeo a seguito di irreperibilità. La fuga dell'uomo è durata 20 giorni. Infatti, la sera del 31 marzo, ad attenderlo a Porto Torres, allo sbarco della motonave proveniente da Barcellona, c'erano i poliziotti del commissariato di Alghero unitamente alla squadra mobile della questura di Sassari. Sul posto gli è stato notificato l'ordine di carcerazione e di conseguenza è stato trasferito nel carcere di Sassari Bancali, dove dovrà espiare appunto la pena residua. E martedì scorso, proseguiamo con la cronaca invece, una pattuglia del Corpo Forestale di Vigilanza Ambientale di Alghero nel corso di un controllo nell'area marina protetta di Capocaccia Isola Piana e del Parco di Porto Conte ha intercettato due pescatori di frodo dediti alla raccolta di ricci di mare, pratica vietata, appunto, ai pescatori che non sono professionisti da un decreto emanato lo scorso mese di novembre. La pattuglia ha notato in località punta del Dentul, sulla strada provinciale 55 che va in direzione di Capocaccia, la presenza di una macchina sospetta in sosta su una piazzuola che alla vista dei forestali si è allontanata precipitosamente. Insospettiti da questo comportamento hanno controllato nei pressi dove prima sostava la vettura e hanno rinvenuto infatti due grosse buste, scusate, colme di ricci di mare appena pescati. Poco dopo, a qualche metro di distanza dall'auto, lungo un sentiero, è stata individuata anche un'altra persona che trasportava due buste di ricci di mare. Da una verifica fatta poi nelle vicinanze della persona si rinvenivano altre tre grosse buste stracolme di ricci di mare per un totale di 2.270 ricci appena raccolti. Nei momenti successivi al ritrovamento di questi ultimi occultati nella vegetazione, la persona fermata ha tentato anche di portare via due delle buste già poste sotto sequestro. Entrambe le persone sono state fermate ed identificate dagli stessi forestali. Nei loro confronti si è proceduto alla denuncia dell'autorità giudiziaria per il reato di cattura di 2.270 ricci di mare all'interno dell'area marina protetta. Gli echinodermi, ancora vivi, sono stati immediatamente rigettati in mare affinché fossero restituiti al proprio e delicato, si sa, ormai ecosistema. Nei giorni scorsi è arrivata la sentenza della giudice del Tribunale di Sassariele, Nameloni, per la morte di Raimonda Asole Marcialis, deceduta nel giugno del 2017 dopo essere caduta nelle scale del Teatro Civico di Alghero. Assolti i due imputati, l'ex direttore della Fondazione Alghero, Paolo Sirena, difeso dall'avvocato Elia Svacca e Antonio Luciano Sisto, il tecnico di palcoscenico a cui la stessa fondazione aveva affidato il sistema antincendio e di emergenza del teatro, assistito quest'ultimo dal legale Ivan Golme. Il pubblico ministero Enrico Angioni aveva chiesto la condanna a otto mesi. Mi attendevo questo esito perché il vero responsabile è il comune di Alghero, proprietario della struttura e responsabile della osservanza delle norme di sicurezza. Le dotazioni di sicurezza erano carenti degli elementi essenziali, così come ho espresso dubbi sul mancato intervento delle forze dell'ordine, sia nel teatro che al pronto soccorso, ha commentato il marito della donna Giuseppe Erranca. Anche dopo il fatto grave, chi poteva decidere di chiudere per le necessarie verifiche ha preferito mantenere il silenzio e far continuare gli spettacoli, consentendo nuove manifestazioni dopo solo due giorni dall'incidente. Oltre al poco buonsenso che avrebbe portato a fare i dovuti controlli e dimostrazioni di mancanza di sensibilità dopo un evento così estremo e che ha portato al decesso della mia compagna e della madre di una bambina di 9 anni. Mi auguro che le motivazioni che il giudice Meloni produrrà tra 90 giorni vengano trasmesse in procura per continuare le indagini nella direzione giusta. Io e mia figlia ci aspettiamo che venga fatta giustizia, anche se niente e nessuno potrà restituirci Raimonda e attendiamo l'esito della causa civile dove mi sono costituito contro il comune. Procedimento ad oggi in fase di definizione ha aggiunto Erranca. Ci fermiamo ora, c'è la pausa per la pubblicità. A tra poco. Ritorniamo in studio e ormai un appuntamento consolidato del panorama jazz in Sardegna. Il 30 aprile, proprio in coincidenza con l'International Jazz Day, prende il via il lungo cammino di Jazz al Gay, la rassegna organizzata dall'associazione culturale Bayou Club Events, quest'anno ha la sua quinta edizione. Un'edizione spalmata nell'arco di sette mesi, con 13 concerti in calendario fino al 25 novembre e con il ritorno del concorso per giovani band, uno dei punti più qualificanti dell'iniziativa ideata nel 2017, diretta per tre edizioni da Paolo Freso e dall'anno scorso da Massimo Russino, batterista di primo piano sulla scena jazzistica isolana e di vasta esperienza internazionale. Questa mattina il Qualtè, la conferenza stampa di presentazione, sentiamo le interviste con il sindaco Mario Conoci, il presidente della Fondazione Algaro Andrea De Logo e il direttore artistico della rassegna Massimo Russino. Dal 30 aprile una nuova edizione di Jazz al Gay, siamo in compagnia del direttore artistico, cosa ci dobbiamo aspettare? Allora, un festival quest'anno Jazz al Gay che sarà spalmato su sette mesi che comprenderà tre stagioni, dalla primavera, estate fino all'ottunno, dal 30 aprile fino al 25 novembre, 13 concerti di grande musica, grandi artisti e grande jazz soprattutto. La location quale sarà? Allora, le location saranno diverse, oltre allo quartè che è la nostra casa madre, ci sposteremo anche al Nuraghe Palmavera, al Chiostro di San Francesco e anche a Villa Gioiosa nel Parco di Portoconte. Poi avremo anche dei grandi nomi internazionali, oltre a quelli nazionali, avremo il trio di Paolo Fresu con Rita Marco Tulli e Jacques Morellenbaum, che è un monumento della musica brasiliana, e la grande cantante Sara Jane Morris. Torna Gioiosa al Gay, sindaco e presidente della fondazione al Ghero, iniziamo dal primo cittadino, è un appuntamento ormai fisso qui nella rivera del Corallo. Sì, un appuntamento fisso che abbraccia ben oltre la stagione estiva e quindi diventa anche una rassegna molto importante per questo, perché parte il 30 aprile, terminerà il 25 novembre e occupa uno spazio temporale molto ampio, quindi ampliando molto l'offerta di spettacoli, di qualità nella nostra città. Ed è soprattutto importante che si ripeta negli anni, perché gli appuntamenti fissi sono quelli attorno ai quali poi si può costruire la promozione e anche l'arrivo di chi vuole vedere questi spettacoli, oltre che naturalmente per i nostri concittadini. Quindi un evento sicuramente importante. Presidente della fondazione al Ghero, Andrea De Logu, avete già presentato buona parte, possiamo dire, del cartellone che sarà di quest'estate. Jacques al Gay sicuramente va ad arricchire. Sì, Jacques al Gay va ad arricchire. Quest'anno abbiamo scelto proprio questa formula. Man mano stiamo presentando, stavolta quest'anno molto per tempo, perché già a marzo abbiamo iniziato con la stagione di prosa della CEDAC, oggi con Jacques al Gay, a breve presenteremo tutta un'altra serie di festival che ormai, come ha detto il Sindaco, sono diventati degli eventi quasi identitari della programmazione culturale algherese. Il 30 aprile, il Sindaco non l'ha anticipato, l'anticipo io per lui, il 30 aprile faremo una conferenza stampa di presentazione dell'intero cartellone degli eventi che andrà da maggio fino a settembre a San Michele. Ed ora vediamo qual è l'appuntamento di questo pomeriggio all'Ute. Alle 16.30, ospite dell'Università delle Tre Età, per parlare alla platea degli iscritti non solo, sarà il professor Antonio Farris, già professore ordinario di microbiologia agroalimentare dell'Università di Sassari, che terrà la conferenza dal titolo Storia del territorio, i pani tipici della tradizione algherese. E con il ritorno dei riti della Settimana Santa in presenza, le processioni saranno come da tradizione accompagnate dalle note della banda musicale D'Alerci. Dopo due anni quindi di pandemia, una delle istituzioni di Alghero riabbraccia la città. Sentiamo le interviste realizzate con il vicepresidente della banda Massimo Chessa e il direttore artistico Daniele Cambule. Con Massimo Chessa e Daniele Cambule parliamo di banda musicale D'Alerci, sicuramente un'istituzione della città amata dagli algheresi, 160 anni quest'anno. I riti della Settimana Santa faranno in modo che la banda ritrovi l'abbraccio della città. Sì, è vero, la banda musicale D'Alerci quest'anno compie 160 anni, è una storia che va celebrata. Abbiamo grandi progetti, tanti eventi che verranno spalmati nel corso di tutta la stagione primavera-estate del 2022 e vogliamo celebrare non solo i 160 anni, ma anche l'appartenenza della banda alla città di Alghero, ricordando la sua musica e gli autori che in tutti questi anni hanno fatto suonare e cantare gli algheresi e anche tutti coloro che sono venuti a contatto con la musica algherese. Sono stati due anni pesanti per voi, lontani dal vostro pubblico, che poi è la città. Sì, assolutamente. Sono stati degli anni pesanti e avremmo voluto regalare i momenti che gli algheresi tanto speravano e aspettavano e quest'anno finalmente è arrivata nuovamente questa occasione. E allora chiediamo a Daniele Cambule, nelle vesti anche di direttore artistico, componente della banda, direttore artistico, dici nel particolare che cosa farete. Oltre a seguire le processioni e quindi ad animare musicalmente le processioni della Settimana Santa, avete in programma un evento il 10 aprile? Sì, esatto. Intanto vorrei dire veramente quanto ci sia mancato in questi due anni poter partecipare ai riti della Settimana Santa, che sono un evento sentito da tutti, da noi bandisti, ma da tutta la città di Alghero. Sì, quest'anno abbiamo in programma, oltre le processioni che si faranno tutte quest'anno, un concerto che si terrà il 10 di aprile in cattedrale e che offrirà un ulteriore spunto di riflessione dal punto di vista spirituale e che coinvolgerà anche persone, musicisti importanti del panorama algherese, ma non solo perché avremo la partecipazione del maestro Mauro Roselli, del maestro Michele Garofalo, che eseguirà un brano al corno solista e poi tutto sarà unito dalla partecipazione straordinaria di Gian Giorgio Cadoni, che sarà la voce recitante di questo concerto, quindi dirà veramente tutti i brani. In più io avrò il piacere di poter cantare alcuni brani della tradizione che riprendono i riti della Settimana Santa che riguardano proprio il sentimento spirituale che offre questo momento particolare. C'è una cantina sarda che negli ultimi mesi ha fatto incetta di medaglie d'oro e riconoscimenti è la cantina di Santa Maria La Palma, grande società vitivinico la cooperativa di Alghero. I vini dell'azienda hanno ricevuto tre medaglie d'oro in tre diversi concorsi enologici internazionali a cui si è giunta una medaglia d'argento in una quarta competizione. Ascoltiamo. Il primo concorso d'oro è stato il concours mondial del Bruxelles 2021 che ha regalato una medaglia d'oro alla Kenta Cuvée. Dopo è stata la volta del Mundus Vini, competizione tedesca, che ha segnato ben tre medaglie d'oro a tre diverse etichette. Raffia, Fermentino di Sardegna Doc, Redit, Cannonano Riserva e a Kenta Cuvée. In seguito è arrivato il Berliner Wine Trophy con due medaglie d'oro, una per il Fermentino Aragosta, una delle etichette storiche più rappresentative dell'azienda, e una ancora per la Kenta Cuvée, che si conferma protagonista assoluto. Questo vino, uno degli ultimi nati a Santa Maria La Palma, è riuscito in poco tempo a conquistare le giurie internazionali e un pubblico sempre più ampio, grazie al suo gusto unico e alla bella presenza. L'ultimo riconoscimento è arrivato per un vino rosè, il Punta Rosa, rosato, da uve di Cannonau di Sardegna Doc, ha ricevuto la medaglia d'argento nel concours mondial de Bruxelles, edizione rosati, distinguendosi come unico vino rosato sardo ad aver ricevuto una medaglia. Questi riconoscimenti rappresentano una grande soddisfazione per tutti noi, sottolinea Mario Peretto, presidente della Cantina Santa Maria La Palma. Ogni medaglia ha un valore importante, perché costituisce un premio al grande lavoro dei nostri soci e del team dell'azienda, oltre a rappresentare la certificazione della qualità del territorio di Alghero e della proposta vinicola della Sardegna. Le medaglie assegnate alla Cantina Santa Maria La Palma da giurie internazionali provenienti da diversi paesi certificano inoltre un altro dato fondamentale. Anche le cantine cooperative, come la nostra, possono produrre vini di alta qualità, esattamente come le aziende a proprietà singola. Lo dicono i fatti e vedere l'assegnazione continua di riconoscimenti rappresenta un'effettiva e definitiva certificazione della qualità della nostra proposta. I premi evidenziano lo stato di salute dell'azienda che nell'ultimo anno ha conosciuto una crescita sostanziale sotto tutti i punti di vista che può riflettersi direttamente sul territorio come sottolinea il Presidente Peretto. La Cantina Santa Maria La Palma è una cantina fatta dagli algheresi e il frutto del lavoro di centinaia di famiglie che vivono qui e lavorano insieme. Noi ridistribuiamo sullo stesso territorio i proventi della sua attività. Per questo l'azienda rappresenta davvero la Cantina di Alghero e degli algheresi. Le sue porte sono sempre aperte per collaborazioni come certificato d'eventi, iniziative portate avanti negli ultimi anni e siamo felici dei feedback positivi ricevuti da chi visita la Cantina. La nostra nuova enoteca nel cuore di Alghero anche questa struttura rappresenta un investimento per far crescere la città e dare lavoro conclude Peretto. Ora l'azienda è impegnata a lavorare per confermare questo periodo dorato focalizzando l'attenzione sulle nuove sfide, mantenere il percorso di crescita e portare a casa nuovi traguardi come la continua espansione dell'export, l'organizzazione del nuovo Kentadei e una sorpresa su una linea di vini che sarà svelata a breve. In chiusura la nostra rubrica torniamo al cinema vediamo allora la programmazione nella sala del Miramare da oggi e fino a martedì 12 aprile in sala sarà proiettato il muto di Gallura questa la novità da giovedì a domenica quindi da oggi fino a domenica alle 18.30 il muto di Gallura mentre alle 20.45 proseguirà la proiezione di Morbius lunedì e martedì prossimi orari invertiti quindi Morbius alle 18.30 e il muto di Gallura alle 20.45 per le prenotazioni lo ricordiamo sempre il sito è live ticket.it slash cinema Miramare Alguero alla sala si accedono uniti di Super Green Pass mascherina FFP2 e si raccomandano sempre dal cinema Miramare di arrivare un po' prima dell'orario delle proiezioni per il controllo proprio del Green Pass ed è tutto per l'edizione di oggi del nostro telegiornale Orel Meteo grazie come sempre per l'attenzione arrivederci grazie a tutti grazie a tutti